Un ricordo sentito e commosso con cui il Consiglio regionale, il Presidente e la Giunta, i sindaci della circoscrizione in cui è stato eletto, le autorità, la famiglia e gli amici hanno voluto commemorare Massimiliano Pescini, consigliere scomparso prematuramente il 25 maggio scorso dopo una breve malattia. Pescini, che prima di essere eletto nell'Assemblea Toscana aveva ricoperto il ruolo di sindaco di San Casciano Valdipesa, avrebbe compiuto 50 anni il prossimo settembre. Una giornata triste, mi sarei aspettato tutto ma mai di dover salutare un collega, un amico, una persona speciale, uno di quei rappresentanti delle istituzioni di cui avremmo sempre più bisogno. Non è retorica e non è perché Massimiliano non è più con noi. In questi anni ho imparato a apprezzare l'amore per la sua comunità, l'amore per la Toscana. Nel suo sorriso si legge la buona politica, la politica fatta di ascolto, la politica fatta di prossimità, è un esempio per le ragazze e i ragazzi più giovani. La buona politica esiste e Massimiliano la incarnava. Ne sentiamo la mancanza forte, io sento la mancanza dei suoi consigli, spesso arrivava nella mia stanza, bussava, entrava e riusciva a trovare sempre le parole giuste anche nei momenti più difficili. Se ne va un uomo educato, se ne va un politico appassionato, se ne va una persona di cui la Toscana tutta sentirà la mancanza. È stato un passaggio difficile, un consiglio carico di commozione, di carica emotiva, dove tutti hanno reso omaggio a Massimiliano Pescini come uomo, ancora prima che come collega, come compagno, come amico. Massimiliano ci ha lasciato causa una malattia terribile in soli 60 giorni e questa malattia si era manifestata proprio durante i lavori di un consiglio. Il ricordo e il patrimonio che lui ci lascia è quello di una bella faccia della buona politica, della politica fatta con generosità, della politica fatta al servizio della comunità. Massimiliano era sempre con il pensiero rivolto ai bisogni dei territori, ai bisogni della sua comunità, sia quella civile sia quella politica. Insomma una persona che aveva in mente la politica come servizio e praticava la politica come servizio. Sì, Massimiliano era prima di tutto un amico o un politico, una persona intelligente che utilizzava la sua intelligenza a servizio degli altri, il senso dell'appartenenza al proprio partito, la nostra comunità, a quella del Consiglio regionale della Toscana, un sindaco al quale il proprio territorio voleva bene ed era una persona che ha lasciato un ricordo incredibile in tutto il Consiglio regionale e credo che sia stato un atto di dovere istituzionale e dovere fermarsi, ricordarlo e soprattutto portare alla memoria della nostra regione una figura di un valore politico di altissimo livello. L'unica cosa che si poteva fare in questa circostanza c'è raccontare la verità. Io con Massimiliano avevo un rapporto politico da tre anni, un rapporto personale di amicizia da dieci, quindi ovvio che i miei ricordi stiano più fuori dall'aula che dentro. La stranezza di questo rapporto, ho raccontato un episodio che racconto volentieri anche a voi perché la dice lunga su quanto sia strana a volte la vita. Io ero reduce, sono reduce da una campagna elettorale fatta in quattro regioni, in giro per la Toscana, l'Umbria, le Marche e il Lazio per le elezioni europee. Massimiliano lo sapeva e ha battuto, mi ha detto quando passi da San Casciano, dimmelo che vengo a darti noia. Alla fine la tornata elettorale ha voluto che il giorno scelto per andare a San Casciano fosse proprio il giorno in cui Massimiliano è morto. Per me questo vuol dire qualcosa. È un messaggio su quanto è strana la vita ma su quanto a volte le coincidenze siano incredibili. È stata una commemorazione bella venuta dal cuore da parte di tutti. Io non lo conoscevo benissimo se non in questi tre anni e mezzo del Consiglio regionale e quindi quello che posso dire io è marginale. Però vista l'afflato con cui tutti si sono espressi ho cercato di posporre i miei sentimenti a una frase del Foscolo che è poca gioia nell'urna chi non lascia l'edità di affetti e lui ne ha lasciati veramente tanti. In consiglio il posto di Pescini viene preso da Fiammetta Capirossi. Oggi è stata una giornata veramente molto complicata. Stamattina per un motivo e oggi pomeriggio con il mio sediamento per un altro. Pensavo di essere più forte invece oggi mi sono scoperta molto più debole di quello che non credevo perché avevo promesso a me stessa che avrei dato onore a Massimiliano cercando di non piangere. Invece così non è stato e ancora faccio fatica. Sono felicissima di poter rendermi utile al mio territorio. So che Massimiliano avrebbe detto fiamma vai e fai quello che sai fare. Quindi con questa spinta e con l'abbraccio dei familiari stamani che per me è un conforto incredibile. Spero di poter essere utile per il mio territorio, per la regione e per il mio partito che mi ha sempre sostenuto e per cui ho sempre lottato. L'Aula ha approvato a maggioranza con i voti favorevoli di Partito Democratico, Italia Viva e Fratelli d'Italia il rendiconto finanziario 2023. A fronte di previsioni iniziali, stimati in 321.439.000 euro, vi sono state variazioni in aumento di oltre 7.864.000 euro e terminando così un ammontare delle previsioni di oltre 39.286.000 euro. I numeri ci parlano di una gestione sicuramente attenta, oculata ed anche efficace. Ciò è dato dagli aspetti di bilancio contabile in senso più stretto, però anche il fatto che il rendiconto, consegni al Consiglio regionale in questo esercizio, 1.700.000 euro di disponibilità da poter utilizzare in maniera libera sia per spesa di investimento che per spese correnti, ma una tanto ci segnalano appunto come l'attenzione alla spesa e ai costi sia stata un'attenzione che ha prodotto anche risultati utili. Quindi io giudico questo positivamente in quanto così come solitamente il bilancio viene condiviso dall'ufficio di presidenza, ci possa anche essere in maniera condivisa l'utilizzo di queste risorse che noi potremo appunto usare in questo esercizio 2024, così come è stato fatto anche in precedenza, allorché gli avanzi di amministrazione del bilancio del Consiglio sono stati utilizzati anche di volta in volta per esigenze, bisogni o anche emergenze. Ricordo ad esempio i contributi stanziati mesi fa nel 2023 per sostenere i comuni impegnati dalle alluvioni e da eventi calamitosi. Ecco, quindi le frequenti variazioni di bilancio che qualcuno in aula ha sollevato come elemento di criticità, noi riteniamo invece che siano elementi che attestino una gestione attenta, proprio una gestione che guarda anche all'evoluzione dei fatti e destina le risorse in base anche alle esigenze che di volta in volta si presentano. All'atto hanno espresso voto contrario Lega e Gruppo Misto. Il Movimento 5 Stelle si è astenuto. Il gruppo della Lega ha votato contrario al rendiconto del Consiglio regionale mettendo in evidenza mettendo in evidenza alcuni aspetti che riteniamo fondamentali. Il primo è quello che ci sono continui avanzi liberi ormai da parecchi anni che a nostro avviso testimoniano una scarsa programmazione e probabilmente anche eccessive risorse a disposizione del Consiglio. Peraltro sotto questo profilo abbiamo evidenziato la necessità che avevamo richiesto già da tempo di una dotazione per le proposte di legge e di iniziativa del Consiglio regionale di risorse economiche da questo punto di vista che invece non trovano ancora soluzione fra Giunta e Consiglio regionale. Alla luce di questo e alla luce anche di una difficoltà di programmazione di molti settori che non riescano nemmeno a spendere le risorse abbiamo confermato un segnale negativo che avevamo già dato e abbiamo votato contrario. Un viaggio affascinante nel mondo sommerso da tutelare, proteggere, conoscere e riconoscere. Fino al 22 giugno nello spazio espositivo Carlo Azeio Ciampi di Palazzo del Pegaso è possibile ammirare l'opera del fotografo Sandro Leonelli che ci mostra il mare nella sua accezione più ampia. Per me è un grande orgoglio presentare questa mostra intitolata Dentro il mare di un grande artista che è Sandro Leonelli e che nelle sue opere, nei suoi scatti davvero ti cattura e ti senti dentro quel mare. Per chi come me isolano dell'Isola d'Elba chiaramente mi sento dentro questi scatti e si percepisce davvero quelle che sono le bellezze del nostro mare, dell'arcipelago toscano e di tutta la costa che abbiamo davanti, Piombino, che sono poi le zone dove Sandro Leonelli ha portato avanti con tantissima professionalità e un grandissimo lavoro. Una mostra che è visitabile qui presso il Consiglio della Regione Toscana fino al 22 giugno e che invito tutti a vedere perché è veramente che dà quel senso anche della vita del mare, un progetto anche che poi guarda a quello che deve essere la tutela del mare. Questa è un tributo all'amore per il mare e quindi parleremo di mare, parleremo soprattutto del mondo sommerso. Quanto è importante, grandissimo patrimonio, di cui la Toscana si privilegia da avere con il suo arcipelago delle sette isole e oggi siamo a Firenze. Questo viaggio è partito l'11 d'aprile del 2023 da Piombino, fa parte di un progetto itinerante. Abbiamo viaggiato in tutta la provincia di Livorno e oggi siamo felicemente a Firenze a portare ai nostri cari amici fiorentini un contributo e soprattutto una testimonianza del mondo sommerso. Questo per noi è un tema importantissimo e io sono legato a questa mostra non solo da un aspetto professionale perché appunto è parte della nostra missione come Guardia Costiera, la tutela dell'ambiente marino e la promozione degli usi sostenibili e compatibili con l'uso da parte di tutti del mare, ma anche a livello personale perché in questo percorso ho avuto la fortuna di accompagnare il curatore un po' in tutte le fasi e credo che sia un momento molto importante, molto positivo perché la tutela del mare passa anche dalla promozione della sua bellezza perché davanti all'evidenza tanto semplice quanto meravigliosa di quanto è ricco il mare è più facile anche promuovere un'educazione verso le persone a un maggiore rispetto e a un uso consapevole della risorsa marina in tutti i suoi aspetti, dalle aspetti ambientali alla tutela della pesca, alla navigazione e ai mille aspetti e le mille ricchezze che il si può dare. Ormai Sandro ci ha abituati a queste sue iniziative che appunto riescono a portarci fuori dai nostri perimetri diciamo abituali, quindi insomma è con piacere che vedo nuovamente i suoi lavori e mi congratulo ogni volta con lui perché c'è sempre qualcosa di nuovo, di diverso, di poetico diciamo così in quello che fanno, un po' come che so i poeti che usano, nessuno meglio di loro usa le parole ma poi il contenuto non ha parole per essere descritto e così mi pare lui ogni volta che vedo queste foto, io che sono anche insomma anch'io uomo di mare perché vado sott'acqua da sempre ma rimango meravigliato da queste immagini che sembrano uscite da un altro mondo, insomma non da quello che usualmente si vede. È la seconda volta che porto il mare a Firenze, prima all'Accademia Navale e ora il nostro fotografo subacqueo. Con questa mostra itinerante noi cerchiamo di stimolare le nuove generazioni, tutte le persone a cosa c'è sott'acqua, un mondo che dovremo incominciare a rispettare di più, valorizzare di più e conoscere lo meglio. Con questa mostra diamo un piccolo contributo a conoscerlo per coloro che come me per esempio non vanno sott'acqua.